Dio ha voluto l'uomo, maschio e femmina, perché siano una carne sola. Davanti a Dio, realmente, siamo uno, siamo diventati uomini. La parola amore, di cui a volte, tante volte, abusiamo, è bellissima la parola amore. Amore vuol dire, se mi hai detto tutto, ti voglio bene, sei tutto per me, no? La parola amore, bellissima espressione, però sappiamo anche come l'amore domanda sacrificio. Questo è il vero, l'avete provato, l'esperimentato, lo sperimenterete sempre di più, l'amore di cui domanda. Anche questo, l'autentico amore che ci ha chiesto di vivere. Volersi bene in tutto e per tutto, accogliersi per quello che si è realmente e nello stesso tempo, ripeto, dare, sacrificare anche qualcosa di mestreale. Adesso, perché voglio sempre di più. vuoi unire la tua vita, la mia, nel Signore che ci ha creato i redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Camillo, puoi unire la tua vita nella mia, nel Signore che ci ha creato i redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di sostenereci l'un l'altro tutti i giorni della nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.